Ah, che bello stare qui alla punta di una barca a osservare il bellissimo panorama di Minecraft. Però, non so, non mi convince. È un po' troppo spoglio. Non so, ma... Scusate un attimo, ma... Che succederebbe se Minecraft fosse come la vita reale? Eeeh! Come? No, 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 che... Dove sono... Oddio! Ma... Oh mio Dio. Oh mio Dio. Dove... Dove sono finito? Ma... Ma... Dove... Dove sono? Che cos'è questo? Non è più Minecraft, ragazzi. Oh mio Dio. Ma... No, 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 è impossibile. Oddio. È impossibile. Devo, devo, devo subito cercare qualcuno a cui dirlo. Perché... Oh, sono pazzo io, vedo tutto Minecraft così. Eeeh... È bellissimo Minecraft. Perché è un uomo in mano? Via! Ok. Eeeh... Allora. Oh mio Dio. Oh mio Dio, i calderoni. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Questo è Minecraft nella vita reale. Oddio. Quanto è bello, quanto è bello. Devo assolutamente trovare qualcuno. Eeeh... C'è qualcuno? Magari in qualche casa? C'è, c'è qualcuno? Eeeh... Ok, no, qui, qui, sembra di no. Eeeh... C'è qualcuno? Eeeh... 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 Fili? Eeeh... Fili? Che ci fai tu? Vabbè, comunque... Fili, guarda! Guarda come si vedono bene i blocchi! Questo è Minecraft futuristico a vita reale! Oh mio Dio! Ma ti sei drogato? No. Guarda l'acqua, Fili! Oh mio Dio! E guarda il fondale, guarda! Scendi in profondità, Fili! Oh mio Dio, guarda come si vedono i blocchi, Fili! È epico, vero? Pronto, polizia? Pronto, polizia! Fili! Sì, è drogato! Sì, venga qua, grazie! Fili! Guarda come si vedono i blocchi! Fili, Fili, Fili! Che c'è? Guarda i blocchi! Guarda qui in basso! Ma che te stai fummato qualcosa? Ma... No, 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 Fili! Io te lo posso dimostrare! Eeeh... Se c'è qualcun'altra persona, te lo dimostro! Guarda, guarda, guarda qui! Guarda proprio questa paia, guarda! Guarda lei in profondo, guarda! Guarda quanto è bella! Ma se... Vabbè, io... Guarda ti sei drogato, cioè... Fili, ma... Stiamo su Minecraft nella vita reale, Fili! Ma che stai a dire se vedo tutto Minecraft normale? Ma... Aspetta, aspetta, aspetta! Forse ho capito! Vieni con me, Fili! Vieni con me, Fili! Vieni con me! Ti faccio vedere una cosa, vieni... Ti faccio vedere una cosa... Non c'è qualcun altro in questo villaggio? Eeeh... Sì, ci dovrebbe essere... Credo... Ah, ah! C'è un tizio! Eh, c'è un tizio! Eh, c'è un tizio! Eh, c'è un tizio! Ehi! Ciao! Ehi! Ciao! Anche tu vedi Minecraft così, guarda quanto è realistico! Super bello! Eh, sì, lì, ma... Di droga! E infatti è quello che ho detto io! Aspetta un attimo, fammi misura la febbre! Sì, ha 47 di febbre! Ma... Non è vero! Ragazzi, guardate, guardate! Ok, allora! Fidatemi! Salite da questa parte! Eh, mio Dio, quanto si vede trovare i blocchi! E Minecraft è realissimo questo, ragazzi! Guardate, salite qua! Salite qua! Ok, venite qui a bordo! Ok? Allora! Adesso! Tuffatevi! No! Ma... No! Tuffatemi! Vabbè, ciao! Stato salto, ciao! Almeno, almeno... Come ti chiami tu? Almeno tu? Ma tu come ti chiami? Matteo! Ok, Matteo! Vai, buttati! Facciamo così! Buttati al mio via, ok? 3, 2, 1, via! Guarda, oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma... Ma... Cos'è questa cosa? Cos'è questa cosa? Cos'è questo? Guarda, metto! Guarda qui! Guarda qui! Questo è Minecraft della vita reale, metto! Lo vedi a catturare così, vero? Ma... 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 Guarda... 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 Guarda questo è blocco in profondità! Siamo nella vita reale di Minecraft! Minecraft... In realtà è reale di Minecraft! È bellissimo! È bellissimo! Guarda via, rive, 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 rive! È bellissimo! Oh mio Dio! Guarda il cielo quanto... Ma poi l'acqua! È che figo! È proprio... È bellissima l'acqua! Cioè... Guarda le foglie che si muovono! È tutto bellissimo, metto! Insomma... Ma... E Minecraft in Italia! Eh sì che Minecraft in Italia è normale! Però... Perché... Guarda c'è... Oh mio Dio! I tronchi! No! Vabbè! È troppo... Le foglie tronchi! Sì sì no! In generale! Adesso... Adesso mi credi eh! Non... Non dici che sono pazzo! E vedi? È passato! Ma... Guarda... Oddio! Guarda la cosa bella! Se ti butti nel fondale! Oh mio Dio! Tutte le ombre! Non è più Minecraft, metto! È fighissimo! Però non capisco perché avevi la febbre quando... Quando fissi la febbre! Ah eh sì! Perché mi ero buttato in acqua! Vabbè! 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 Fa nulla! Però... Cioè... Cioè... Ne passa la pena! Cioè... Guarda così! Questa come la vedi? Un po' bellissima! Taffata! Sì sì! È proprio bellissima! Sì! Bellissima! Beh! Bellissima! Vabbè! Comunque! Stavamo dicendo... Senti! Potresti fare più un po' più... Là! Oddio! È passato... È passato un gabbiano! L'ho sentito! Anche tu l'hai sentito! Vero? Sì sì! Ovvio! Sì! I gabbiani non ci sono su Minecraft! Però qui ci sono! Perché la vita è reale! Oh mio Dio! È bellissimo! È bellissimo! Bellissimo! Guarda qui! Oh mio Dio! È tutto così bello! Questo non è Minecraft! Questa è la vita reale! Met! Oh mio Dio! No! Vabbè! Non vedrò di tornare a casa! Così potrò vedere la mia postazione in vita reale! No! No! Aspetta un attimo! Un piccolo dubbio! Aspetta un attimo! Ma! Scusa un attimo! Ma! Oddio! Fammi prendere il telefono! Ma io sto registrando! Oh mio Dio! Ragazzi! Avete visto Minecraft? Quanto è bello il video reale! Oh mio Dio! Eh beh! Siamo in compagnia con Matt! Qui! Met! Ciao! Met! Ti ho conosciuto a due secondi però! Sì! Met! Buongiorno! Eh! Ma! Mi sorge un piccolo dubbio! Signor! Lei come si chiama? Foxy! Io il Foxy! Eh! Come facciamo a tornare nel mondo di Minecraft? In che senso ne vuoi dire mai? Ah! Tu dici! Ah! Ah! Con quella grafica brutta di Minecraft? Sì! Ma non ci torniamo! Lascia stare così bello! Eh! Che ne dici di farti un giro in barca? Non so! Ma sì! Dai! Ok! Dai! Vieni! Allora Matt! Pronto? Buttati! Oh! Ok! Vieni! Ok! Sali però! Ok! Allora Matt! Guarda qui ti faccio fare un tour di questo bellissimo mondo! Tutto! Tutto! Con questa grafica! Oh mio Dio! Guarda quella torre! Guarda quella torre è bellissima! Ma è bellissima! E pensare che qui è tutto mare così! E noi siamo ad un vero mare! Ecco quanto è bello! Ma guarda la sabbia! No veramente! Questo Minecraft è davvero spettacolare ragazzi! È bellissimo! Ditemi se volete magari altri video dove andrò in città magari con questo Minecraft! Perché mi sa che non possiamo più tornare al Minecraft! Non male! Perché non so! Come no! Ehm no! Come no! No! Però guarda quanto è bello! Cioè! Guarda quanto è bello! Oh mio Dio! Guarda la sabbia! Guarda la sabbia! Oh mio Dio! Guarda la sabbia! Guarda la sabbia! Guarda la sabbia! È bellissima la sabbia! Sì! Però... Nostalgia della vecchia! Ma quale nostalgiamente! Quale nostalgia! Guarda i cazzerani! Ci sono tutte le ombre! È troppo bello! Io vorrei giocare a questo anche per sempre! Veramente per sempre! Mi fa mi sa bene gioco! Ah! Ok! Va bene! No! È bellissimo veramente! C'è un po' da fischiabbe! Questa grafica mette mi sa che... Eh io devo tornare a casa! Sì sì! Eh nulla mette! Va bene! Eh io vado a casa! Ciao mette! Eh devo andare in barca perché è di lì! Va bene! Ciao mette! Con rumore! Anzi aspetta! Metto! Eh non lo so! Visto che ci siamo! Vorresti venire a casa mia! Non so! Magari vediamo la mia postazione insieme! Da gaming! Ok! Va bene! In HD su Minecraft! Oh mio Dio! Dai vieni metto! Vieni metto! Vieni metto! Vieni metto! Salvi veloce sali! Ok! Allora! Vai andiamo a casa mia! Metto! Fai metto ok! Guarda il mare quanto è be- Eh aiuto! Oddio! Eh metto! Ma! Forse è bene! Ma! Per me! Ma! Perchè è tutto bianco e nero? Met! Met! Che cosa è successo metto? Ben quella droga è- No no no! Secondo me là dentro quella qua c'è la della droga! E mi hai fatto ingegnere della droga prima di farmi buttare! È tutto bianco e nero! No no! Grazie.